Scatole cinesi! E dammi almeno l'ultima risposta che tiri fuori dalle tasche dei blue jeans, ma almeno stavolta dai una risposta degna un po' di me. Io disposto a scucire i guai che poi io lascio a te e vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. E vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. A cosa stai pensando? Seduta sui minuti di un tempo che è per te e piano piano poi si sta fermando. Scatole cinesi! E un chicco di caffè, ma almeno stavolta dai una risata degna un po' di me. Io disposto a scucire i guai che poi io lascio a te e vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. E vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. E vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. E vado via e lascio che il mondo giri intorno a me ed io intorno a te. A cosa stai pensando? Seduta sui minuti di un tempo che è per te. Patrizio Maria Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!